Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, stasera siamo qui per parlare un po' dei tre anticipi che si sono svolti oggi, cioè Benevento-Bologna che è finito 1-0 per il Bologna, Genoa-Juventus è finita 4-2 per la Juve e Roma-Inter 3-1 per l'Inter. Partiamo con Benevento-Bologna. Purtroppo il Benevento ha avuto la sua seconda sconfitta consecutiva, non la meritava questa sconfitta perché ha attaccato molto mirante il portiere del Bologna, ha fatto diversi miracoli ed è successo un episodio molto clamoroso anche nel finale. Il Benevento dopo che stava spingendo molto alla fine era riuscito a trovare il gollo con Lucioni, ma molto dopo, dopo che c'era stata l'esultanza di tutto lo stadio, dei giocatori, dopo anche che lo speaker del Vigorito aveva urlato il nome di Lucioni, è stata vista la Var e l'arbitro ha verificato che Lucioni era in posizione di fuorigioco e quindi ha annullato il gol e poi ha fischiato la fine della partita. È stata davvero una brutta cosa per il Benevento perché davvero avevano avuto per molto tempo l'illusione del gol, però poi è svanita questa gioia e l'arbitro ha annullato il gol. Comunque il Benevento ragazzi viene da due sconfitte, però non si può dire che è stato sovrastato, anzi ha giocato molto bene il Benevento, ha avuto anche un po' di sfortuna e forse ha pagato anche un po' l'inesperienza visto che il Benevento è alla prima esperienza in un campionato di Serie A. Su tutti mi sono piaciuti molto Ciciretti ed Alessandro. Ciciretti riesce sempre a rendersi pericoloso come ha fatto anche contro la Sampdoria e D'Alessandro si è reso pericoloso in molte occasioni e poi ha fatto davvero una partita di grande sacrificio, ha corso davvero molto. Ceravolo anche mi è piaciuto mentre poi secondo me ragazzi il Benevento però dovrà prendere un altro centravanti perché Coda almeno per il momento non lo vedo molto bene, sarà perché deve ancora ambientarsi che è un esordiente in Serie A. In Serie B alla Salernitana ha fatto bene però si sa che c'è differenza tra Serie A e Serie B. Quindi secondo me il Benevento farebbe bene ad acquistare un attaccante più di esperienza in Serie A. Per quanto riguarda il centrocampo ragazzi in queste due prime partite è mancato Cipsa che ha fatto una grandissima stagione l'anno scorso in Serie B e diciamo che il centrocampo è il reparto dove il Benevento sta messo meglio perché il centrocampo titolare dovrebbe essere Cataldi Cipsa e Cataldi Cipsa può essere davvero un centrocampo di ottima qualità e anche di prospettiva. Mentre in difesa ragazzi a me piace moltissimo Lucioni. Sia oggi che contro la Sampdoria ha giocato bene da sempre sicurezza al reparto difensivo, si fa sempre trovare pronto, ha anche un'ottima tecnica e non è pressato. Mentre oggi ho visto commettere diverse ingenuità costa che il Benevento ha acquistato dall'Empoli però comunque penso che alla fine il Benevento se la potrà giocare per la salvezza perché ci sono squadre che poi non sono così superiori al Benevento tipo il Crotone, il Verona e anche Udinese, Genoa e Cagliari se non acquistano un attaccante fino alla fine del mercato. Poi ragazzi Genoa-Juventus 2-4. All'inizio c'eravamo illusi ragazzi e la Juventus era sotto 2-0 dopo 6 minuti. Sembrava di rivivere la partita dell'anno scorso dove la Juve perse per 3-1. Il secondo rigore al Genoa è stato concesso grazie al VAR e quindi ancora una volta decisivo il VAR, il primo gol era stato su autogol. Però poi dopo poco Di Bala è riuscito ad accorciare le distanze e poi a fine primo tempo, sempre grazie al VAR, è stato concesso un calcio di rigore alla Juventus proprio al 45esimo che poi Di Bala ha segnato e ha portato la partita sul 2-2. Il Genoa ragazzi ci ha messo il cuore però l'ho visto davvero molto molto debole in difesa. Comunque anche nel secondo tempo la Juve ha subito, il Genoa è stato molto spesso in attacco anche dopo che la Juve aveva segnato il 3-2 con un quadrato, mentre poi alla fine è arrivato il 4-2 di Di Bala. Comunque ragazzi io la Juve non la vedo in difesa così irresistibile come lo era negli anni scorsi. Il Genoa secondo me anche dovrebbe acquistare un centro avanti se no rischia seriamente di mischiarsi nella lotta per la retrocessione. Perché la Padula comunque non è che è proprio adatto per fare un campionato di Serie A da titolare secondo me e poi Pandev ormai ha una certa età. Poi ragazzi passiamo a quello che era il big match di questa giornata cioè Roma-Inter. La Roma ragazzi è stata davvero molto sfortunata è riuscita ad andare in vantaggio nel primo tempo con Geko e ha preso anche tre pali la Roma e poi anche un salvataggio sulla linea subito dopo che l'Inter aveva segnato il gol dell'1-1. Comunque ragazzi alla fine sia la Roma che l'Inter comunque sono squadre che concedono molto però l'Inter comunque ha dimostrato che quest'anno può essere davvero una squadra molto pericolosa sapevo che Spalletti sarebbe riuscito a far ingranare bene la squadra e quest'anno davvero Icardi lo vedo molto bene e penso che possa fare anche molti più gol rispetto a quelli che ha fatto negli scorsi anni. Ragazzi scusate è caduto il telefono. Comunque Roma-Inter alla fine nonostante questa vittoria dell'Inter sono due squadre che si equivalgono però certo questa vittoria per 3-1 dell'Inter in casa della Roma è stata davvero molto pesante. Ora ragazzi aspettiamo domani sera per Napoli-Atalanta partita assolutamente da vincere e speriamo che la squadra non si farà condizionare dalle voci che ci sono state nelle ultime ore di un trasferimento di Reina al Paris Saint-Germain però io penso che alla fine rimarrà tutto così perché il Napoli secondo me non vuole poi cambiare uomini soprattutto il portiere titolare dopo che lo spogliatoio ha raggiunto una certa compattezza e poi un addio di Reina che è uno dei pilastri dello spogliatoio potrebbe un po' far rimanere di malumore alcuni calciatori quindi per quest'anno è meglio rimanere così. Detto questo ragazzi vi saluto sempre Forza Napoli